La nostra dieta, quanto può essere di aiuto per un invecchiamento in salute e quali altri supporti possono essere necessari e soprattutto quale può essere il ruolo della nutraceutica. Ne abbiamo parlato con una vera esperta di alimentazione, con la professoressa Stefania Maggi, che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento molto bello, molto interessante, che prende il nome di longevity. Professoressa Maggi, ma per un buon invecchiamento, per un invecchiamento in salute, quindi riferendoci alla dieta, è sufficiente, che non è poi poco, seguire la dieta mediterranea? Basta la dieta mediterranea per stare bene? No, la dieta mediterranea diciamo è un elemento necessario ma non sufficiente, nel senso che l'adesione alla dieta mediterranea è raccomandato durante tutto l'arco della vita, proprio perché garantisce una nutrizione equilibrata, un'alimentazione sana. Certamente ci sono delle condizioni, soprattutto nell'anziano, che può avere patologie diverse, ma l'assorbimento, in cui la cucina mediterranea non può bastare. L'esempio tipico è l'anziano affetto da sarcopenia, perdita muscolare, in cui sono necessari appunto degli altri interventi, sicuramente amminoacidi, sicuramente vitamina D, sono un supporto molto importante per completare un'alimentazione equilibrata nell'anziano. Senta, ma l'alimentazione sana e nutraceutica, di cui si è parlato oggi qui al convegno, ecco sono complementari, come vanno gestiti per appunto un invecchiamento in salute, appunto un'alimentazione sana e l'utilizzo, almeno in certi casi, dei prodotti nutraceutici? Allora, vanno gestiti in maniera molto attenta. Noi sappiamo e spesso si legge di utilizzo inadeguato di nutraceutici, soprattutto nei ragazzi, nelle palestre e spesso si legge questo. I nutraceutici possono essere un prezioso aiuto all'alimentazione, alla dieta giornaliera, purché vengano garantiti in termini di qualità, e questo è un dato molto importante, e di quantità. La somministrazione, la durata dell'utilizzo sono fattori fondamentali e che vanno rispettati. Per questo dico, va fatta attenzione a come e quando si usano. Siete, torniamo al tema dell'invecchiamento in salute. Ecco, quanto incide appunto la salute, in questo caso del sistema immunitario, per invecchiare bene? Allora, il sistema immunitario è fondamentale, nel senso che noi siamo abituati a pensare al sistema immunitario come difesa dagli eventi acuti, dalle infezioni, mentre il sistema immunitario, se non funziona bene, porta anche a patologie croniche, a tutte le grandi patologie croniche associate all'invecchiamento. E proprio per mantenere il sistema immunitario in salute, l'alimentazione e l'alimentazione equilibrata è fondamentale. È un pilastro per mantenere quello che significa avere un sistema immunitario che ci protegge appunto in generale e che ci permette di mantenere una salute adeguata. Professore, se lei nel convegno ha parlato molto del ruolo della vitamina D ai fini punto di un invecchiamento in salute, non solo delle nostre ossa, dove sono fondamentali per l'assolvimento del calcio, ma anche per altri motivi. Ecco, ci spiega un po' di che cosa si tratta. Sì, la vitamina D è un elemento prezioso, non solo per muscolo, per ossa, ma anche per il sistema immunitario, per esempio. E ci sono appunto in letteratura dati molto controversi, quindi io mi sono focalizzata proprio sulla metodologia di questi studi e su quali sono i fattori che talvolta portano a risultati negativi. Uno dei problemi che sembra banale ma che è fondamentale è che chiaramente la supplementazione di vitamina D deve essere data a soggetti che hanno una carenza. Purtroppo in molti studi di intervento si dà a soggetti che non hanno carenza e quindi chiaramente non vedremo alcun beneficio. Questo è un dato di fatto. Resta però il fatto che la vitamina D è un prodotto assolutamente prezioso per l'anziano e quindi va somministrato chiaramente nelle dosi adeguate per i periodi adeguati e soprattutto alla popolazione target che necessita.